musica oh ma che caldo fa oh adesso anche il tavolo è diventato caldo oh mi dispiace Julian volevo fare le lettere in inglese ma fa così che fresco questo pavimento oh insomma io penso che non mi sposto più l'ho appiccicato tutto sudato ah io mi sono già messo un po' di ghiaccio qui sotto ah ma con questo caldo non si può stare a scuola sono più di 30 gradi bambini vi consiglio di sdravervi sul pavimento così fresco un po' sporco ma così fresco ciao bambini oh bellissimo tempo oggi eh si 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 c'è davvero un bel tempo oh ma fa super caldo oh certo dale c'è il condizionatore eh e noi perché non dobbiamo stare qui ah ma ma stai bene oh si si ma il pavimento è così fresco non potrei montare a casa fa troppo caldo non ci faccio più si 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 per favore insomma ci faccio andare a casa oh va bene va bene altrimenti avrei avuto un'altra proposta ma no si yuhu oh insomma cosa avrebbe dovuto fare una piscina sai cosa ti dico Julian si l'ho fatto in piscina pensavo che fosse tempo di dire insegnanti vi esso studenti Julian hai sentito insomma non possiamo andare adesso cosa ci serve altrimenti oh si perché no ma c'è anche una cosa di speciale ma insomma prego insegnanti vi esso studenti hmm Julian non ti vedi oh oh si 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 no sono mica un fifone giochiamo pure vinceremo noi oh si finché si può notare lì tanto ci sono bene allora andiamo Harry anche tu oh va bene va bene ma è così bello qui aha adesso sono proprio curioso di vedere come si involverranno le cose mh 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 cos'è questo è pieno di slime wow oh oh una cascata di colore una cascata di slime ciao a tutti e benvenuti allo slime un nuovo episodio di insegnanti vi esso studenti abbiamo un po' di mmm slime molto scivoloso e dovete riuscire a rampicarvi qui sopra mh mh può essere anche che si cade in piscina e poi bisogna uscire ma non si sa vedrete mh mh Julian cosa dici po 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 vuoi giocare? oh glielo dico per la seconda volta non sono un fifone oh vinceremo noi oh è slime è il nostro no? bene bene allora presente team per l'insegnante Miss Handsome Prof Chili e della nostra liceo Prof Group e poi abbiamo Julian mio fratellone Ines e mia e poi dovete riuscire a salire là oh si 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 passa ragazzi l'era bu insegnanti bu bene 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 allora Miss Handsome pronto insomma pronto diciamo mia sei pronta? assolutamente si ok allora iniziamo buona fortuna 3 2 1 uh uh ma quanto è scivoloso come dovrei fare a salire accidenti pensavo fosse più facile oh come faccio a scivolare a salire per favore è impossibile oh ripegno ti dobbiamo vincere a parte di reddina oh oh non riuscite a salire oh vai mia vai 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 ah ce la faccio ce la faccio dai dai mia ancora ci sei quasi vinto oh non ce la faccio oh oh mi senza oh no oh 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 ce la dico oh no sono caduto oh si ce l'ho fatta yuhu oh prof cosa succede ed mhm 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 mr henson cosa succede con il vostro compagno oh detesto quando i bambini vincono soprattutto questo julian piccolo mhm anche se questa puccina è davvero ce la to che bello slime primi dieci punti per gli studenti posso accevolare giù oh bene i prossimi due candidati Ines e ProfGrop 3,2,1 e via Facile no? Posso salire da qua? No, no, non contro le regole Ehi, tu Non puoi così Ehi, Pia Ah, sì, 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 no, no, no Deve salire dallo slime, non vale Oh, ma, ma è pericoloso Insomma, è pericoloso, no, però È scivoloso Ah, già la challenge Ah, ah, sono quasi arrivata Oh, no, mi sono incastrata Accidenti Oh, no, 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 sono scivolata giù Ah Oh, perderò di sicuro Oh, chi l'avrebbe mai pensato Oh, oh, oh Guardate un po' queste cellenze YouTube Sono uguali alle nostre Non verrà sta Oh, guardate che ho vinto Oh, no, non riesco più a uscire, aiuto Oh, oh, sono arrivato Primo Dieci punti per noi Uh, uh Ah, mi dispiace dirlo Ma non pensavo di dirlo Ma, prof group Ce l'ha fatta Ha vinto contro lo slime Ora siamo a dieci pari Arriviamo alla finale Oh, oh, Giulia L'hai visto? Vediamo adesso Vincerò Ah, sì, vedremo Sono l'esparto dello slime Oh, la cosa mi dico Pian Definitivamente è così A scuola Lo faremo, sì, sì, sì Oh, wow Una festa dello slime Oh, sì Potremmo farlo Così tante idee Bene Puoi ricerla Finale Ma Oggi vinceranno gli insegnanti Eh, avete sentito Oggi vinceranno gli insegnanti Mai Va, Giulia Veloce Dai, Giulia Ce la farai Oh, insomma Questo slime È così rinfrescante Potrei stare qui Tutto il giorno Oh Bene Il mio segnale 3, 2, 1 Via Oh, oh Sono quasi pari Vedrò io Giulia e i prof Sono uguali Oh, Giulia Sono quasi in cima E tu Oh, anche io Sono quasi in cima Sono più veloce Ah, l'ho detto Che sono veloce Vincerò io Oh, no Sono incollato Oh, no Sono incollato Oh, no Io no Ah, vedremo Ehi, ehi, ehi Via le mani delle mie Ehi Ehi Ha cotto le regole Per favore Non sto cercando È vero di tenere Il mio fratello Fermo È vietato Oh, no Oh, oh L'ho caduto Ha Voleva tirarmi giù Ma non ce l'ha fatto È caduto da solo E così hanno vinto L'isturante Giulia Poghen Sì Abbiamo dei vincitori Gli studenti Oh, oh Puoi dire che Il prof ha perso Pa, 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 pa Oh, eh Oh, oh, oh Slime dappertutto Questo era quanto Con insegnanti Contro studenti Spero che vi state divertiti Ma certo Così adesso Tutti nella piscina Non è possibile Mi ha perso di nuovo Non è possibile Ha perso contro Giulia No